Per non perderti nessuna novità, iscriviti! Benvenuti su Made of Scare. Comunque siamo nella seconda parte di Made of Scare, io direi di continuare. Comunque siamo saliti al primo piano, ci siamo nascosti in questa stanza perché dovevamo cercare i cilindri in tutto l'hotel e ne abbiamo trovati due. Uno nel giardino e uno al piano terra. E trova tutti gli emblemi di famiglia per risolvere un... Presidente? Presidente? Dilemma poi in mezzo. E andiamo di qua. Puttana fanculo, stronzo. Ciao. Vai, piano. Sembra mio nonno. Io andrei da dove è venuto lui? Parababarabam. La mappa. Bene, bene. Qua c'è la stanza chiusa dal mistero. Qua c'è la stanza chiusa dalla chiave magica. Qua c'è... Ok. Ok, io direi di guardare questa zona qui. Parabene. Poi andiamo di qua. Ok. Ma sei pazzo? Ma che cazzo è? Ma che cazzo di letto è? Chi è che ci dorme? In un letto in cui viene inchiappettato a sangue, letteralmente. Ah, ok. Ok, ho capito. Ma non è che mi arrivano nel culo? Sono un genio. È una cazzata. Mamma mia. Troppo bravo. Ah! Ah! Cosa c'è qua? Mi fa sto bordello. Oddio. L'impovero però abro. Spero dovesse ci vede prima di giro in questo momento. Abbiamo ideato e costruito delle sale da omicidio insieme per notire la creatura e finanziare i nostri piani. La creatura è una sirena che il padre di Isaac ha trovato in una nave che si è schiantata sull'isola. Dopo sapere che i droghi... Sono stato anche accettato... Parca troia. Quindi i clienti che ora... Ma questi cadavoli inceneriti sono spreco che non possiamo più permetterci. Oddio. Apriamo questa bellissima ghigliottina. Ah. No, lì c'era uno. No, 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 no. Lì c'era... C'è... Rimani fermo lì? Me ne vado tranquillo. Me ne vado. Credo di aver aperto la... Ma la sta sfondando. Nel tuo bio magari me ne vado, eh. Te ne devi andare. Te ne devi andare, per favore. Puttana, lui che ansima. Vattene, 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 vattene. Tornano a sti rumori di sottofondo che usano, che... Devo fare il giro. Cazzo! È quello grosso! Cazzo... Che situazione di merda. Minchia... Minchia... Ok. Ok. Pezzo. Non c'è nessuno, tranquillo. Ti prego, ti prego. Vai, 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 vai. Porca troia, chiuso qua, così. Ok. Mi ha visto dire... Corri! Oh... No! Sei pazzo! Ma è pazzo quello... Porca troia. Vai, 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 vai. E qui, chiuditi. E qui, chiuditi. Oh! Oh! Salva! Oh! Oh! Oh, santo Dio! Che paura, prima che mi ha corso addosso. Santo Dio! Pronto! Pronto! No, non è... Non cura... Quante ne ho? Le ho finite. Le ho finite, guardate. Ok, uno. E uno, due. Ci manca... Uno. E manca due, ok. Oh! Sì! Eh, tranquillo. Ammazzavano solo le persone qua. Che ci credo? Come posso arrivare da te? Un ascensore. Ha creato un complesso lucchetto che si apre solo con le quattro parti del nostro emblema di famiglia. Dove ne ha trovati? Chi sta arrivando? Mamma mia. La sirena dei miti greci. Una seducente melodia di granuga più potente delle lanterne arriva se se non riuscissi a farla cantante. Gingirei da... Gingirei da... Gingirei da... Gingirei da... Sì, comunque era... Ma fuggiamo cucinare. Dove lo... C'è... No, no, no... Non so, ma le potrebbero fatti i corpi di quello... Sì, insomma, le sirene si nutrono di corpi umani. Salatino. Più o meno. Voglio spiegarlo a grandi linee. Cosa c'è qua? Tranne tanti specchi rotti, bellissimi. Una cura. Una cura. Una cura. Quella non è una cura. Cioè, secondo me sì, nella vita reale è una medicina, ma qua decidono che non lo è. E quindi questa stanza è completamente inutile a tutto... Questa stanza è utilissima, è la stanza più utile... Davvero? Davvero facciamo così? Porca troia! No... No... Cosa? No, non è qua. Non è qua. Non è qua. Non è qua. Non è... Ma non è la ruota? Qua c'è qualcos'altro? Ho tutto il tempo del mondo. Tranquilli, tranquilli, c'è tutto il tempo. Si fa qua, si apre. Magari c'è qualche oggetto particolare. Assolutamente niente di niente. Si mette la manovella, si gira, si apre la porta... Porca troia! Cosa? Cosa? Ci sono, si ripisse di acqua sinceramente. Tileccolano. Grazie Frame, il nostro editor. Saluta! Allora andiamo a destra o a sinistra? Porca troia Stronzo di un vecchio bastardo Andrei a destra Buonasera Salvataggio Salvataggio Ascoltiamo questo bellissimo suono Di Isaac Questa è molto la Bioshock Ma chi? Eh certo L'hai rinchiusa Ascoltando per portare il mio padre Slaverso culto? No! Solo per aiutare il hotel E ristare la sua grandezza La nostra famiglia è grandezza Alla che deve fare è singe E qua gli è venuta la malsana idea di usare sua moglie e sua figlia Per attirare la gente al suo hotel E quello grosso Allora in teoria non fanno mai dietro a fronte Fanno sempre un giro completo Pensavo fosse uno dei collezionabili E vabbè dai Ho scorreggiato Ho scorreggiato Jack Eh l'ho sentito sai In che trip psichedelico mi ritroverò adesso? Quei cosi che paura che fanno Guarda che schifo Cos'è devo fare? Andare verso la campana Ok Un'aquila E andare verso i suoni Ok Ok Questo Choro Oh Dobbiamo correre Il gessetto Bell'abito Io non andrei Non è di qua che devo andare infatti Ma di chi è questo corpo decapitato? Matilda Nord Porca troia Questo mi manca l'ultimo pezzo Ma qua vorrei dirmi che c'è una mappa Oh no Cosa cazzo ho fatto? Non posso prendere il collezionabile Ma ci salto dentro C'era questa stanza solo per il collezionabile E io l'ho bruciata Oh ma che bel posto Per rientrare devo attivare due robe Due generatori Che saranno uno sopra e uno sotto E andiamo di sopra Ce n'è uno là Ma faccio il giro qua E ce n'è uno lì Ok Uno Cosa fa? Alessimente Mi auguro non qua Mi auguro non qua Ok Ora vai a sinistra Ma lanciati da qua che ci entri Ma lanciati da qua ovvio Dov'è? Dov'è il generatore? Mi fico in questo angoletto perfettamente creato per nascondermi al suo passaggio. Eccolo lì. Ora a caso ti fermerai proprio tra 3, 2, 1... No, bravissimo. Ti prego, fai un metro in più, fai un metro in più, resisti, resisti. Porca troia, è bloccato. Devo per forza andarlo a premere, porca troia. Non ci sono. No, no. No, no. Ok, riprendi fiato tranquillo. Ecco. Vediamo, si baceranno? Premi. Devo premere. Devo premere. Devo premere. Vai. Tranquillo, questo rumore non ti ha dato per niente fastidio, vero? Buonasera. Ficcalo qua. Madonna vera. Dai. Fatto. Ho fatto. Ho fatto. Ciuf, ciuf. Vaffanculo a tutti. Vaffanculo. Vaffanculo a tutti. Vaffanculo. Vaffanculo. Come si fa? Premi. Premi. No, ho sbagliato. Arrivederci. Vaffanculo. Oh, vaffanculo. Allora. Cosa faccio? Open cosa? Gli cancelli per il primo piano. Scorciatoia. Devo andare al secondo piano. Qua, in teoria, non siamo al sicuro. Amore mio? Thomas. Thomas? Il mio amico, Abraham, potrebbe essere sul sull'interno ora. Bello saperlo. Posso ucciderlo? No. Ma ho sentito qualcuno, a volte, un po' di momenti, da un'altra parte. Come posso arrivare da te? Camera di tuo padre, eh? Si accendono. Si. Sono molto attenta. il mio amico, non era un uomo, a volte. E ora? Non sono sicuro che sia un uomo. È un uomo. È un uomo, Thomas. È un uomo. strafinanzato. E col dolore è quello che ti scrivo. Conscia di quanto poco tempo ci resti insieme. Sappi che sei sempre stata il mio tuo grande tesoro. C'è così tanto che avrei dovuto dirti questa casa e gli abissi presso cui dimora. Sono pieni di segreti, spesso troppo agghiacciati per essere nominati. segreti di cui, ahimè, sono talvolta stata complice. Era una giovane ragazza rapita dal fascino dell'adorazione per l'alterigia di tuo nonno e tuo padre. Dalle loro promesse di fame e potere che le loro scoperte promettevano. Se vi è giustizia in questo mio terreno, come si dice, vi sia nel regno che verrà, sto di certo scontando il mio debito. Sto di certo scontando il mio debito. Il mio italiano un po' così. Il mio ardente desiderio è che tali peccati non ricadano su di te. C'è così tanto che avrei tutto dovuto fare. Il mio più grande rammarico è non aver avuto la forza di lasciare lo scherzo potente. Non averti portata via da questo luogo maledetto. Di essere lasciata fuorviare dal tuo incantesimo. Dal suo incantesimo. E' un trannello in cui non vorrei mai tu possa cadere. Fuggi da questo luogo e non buttarti indietro. Non farti incantare dal suo mellifluo canto. Mia figlia adorata, non piangere per me ma ricorda che ti ho amato nel profondo del cuore. Porca troia. Chiave Corvo. Salve. Dio. Ah. Open space proprio. Piani per la contro melodia. Il canto della creatura ha qualcuno dei suoi marchi ingegnici. Deve essere un modo per contrastarlo, per ottenuare e annullare l'influenza. Dio. Ma chi chiede al mio tema? Certamente. Ma chi altro? Ah. Matilda Norton, Arthur Morris e Henry Hughes. E sono quelli che noi, Henry Hughes, il mio, Matilda Norton. Sono gli spartiti scritti per contrastare la melodia della sirena. Salvataggio. Questa è la stanza di Prudence? Chi sei tu? Grande la domanda. Per sicuro sarà Prudence? No, è Elisabeth. Sì. 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 Pillase терри da questo sia ancora. Sì. 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 Ci COME UN certoetera. In другой tempi. Sì. No. Sì. 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 Ma perché non l'abbia lasciata da sola? Thomas, dove sei? Ho bisogno di te ora più di mai, mio amore. Marderer su Isaac, il padre di Elisabeth. Andiamo prima a sinistra, prima di andare a piedi. Andiamo a destra! Porca troia! Cosa cazzo è grosso? Ma serve un cazzo! Corri via allora! Oh! Corri di qua! Cazzo sono! Ma come cazzo fa a sapere dove sono? Che schifo che... Cosa devo fare? Qualcuno mi dica cosa devo fare! Ti prego! 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 Ti scongiuro! Ti imploro! Cosa devo fare della mia vita eh? Ti prego! 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 Non so cosa devo fare, non so cosa devo fare Non ho idea Mamma, 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 mamma Quindi Quindi E' corso Spaccami il cranio, dai Ma dal cazzo hai spinto Fa un culo, stronzo No, è bloccata E' bloccata E' bloccata Non è bloccata Non la voglio sbloccare questa adesso Cosa è successo? Mi son fatto malissimo Che cazzo devo fare? Allora, credo che debba riuscire Ecco Cazzo corri Coglione di merda Ok, credo di averlo preso Sì Quanti sono, quanti sono No, corre, corre, corre Corre, corre No, no, lo uccido Col cazzo Ah no, l'ho bloccato Ok Non credo di averlo ucciso Pensavo di averlo solo stordito E che suono? Eh, che cazzo succede? L'hanno rapita Hai visto? Che cazzo combini? Non è che ti risvegli tra poco, vero? Corri, corri Allora Gabbia è il 4 4 Gabbia 4 Cane 2 Cane 2 Falco 3 Falco 3 In ordine Falco Pesce 1 Pesce Pesce, cane, falco Pesce, cane, falco Pesce, cane, falco Gabbia Ok, ho premuto qualcosa di sbagliato Lui era Lei era qua Elisabeth Non guardarmi Mostro No, vedi che Che è successo qualcosa Minchia Questo qua Che cammina Adesso leggo Oddio Cos'è sta roba Oddio Sono i telefoni Mi sa Vediamo Elisabeth Oh santo Dio Ciao papà Le è caduto il cappello Siamo stati spinti Ma quella quindi No, si è rotta la nostra Unicarno Meno male che l'ho usata Allora Meno male che l'ho sfruttata Per bene Alla fine Si è qua tutti Nello stand I panni Allora Io direi che Perfetto Un salvatore Diare di Elisabeth Perfetto Direi Allora Facciamo una bellissima cosa Andiamo qua Nella stanza più bella Di Elisabeth Nonostante il rischio Ho lasciato la soffitta oggi Ho scoperto le inerrabili cose Che mio padre ha iniziato a fare Bruciare le facce di uomini Innocenti senza motivo Ho sentito mio zio Vagare per i corridoi Alla ricerca del mio nascondimento È diventato un gigante Senza cervello Sono sprofondati Trami nella folia Con le loro terrificanti Maschere rituali In anni di Alcuni ispiti Sono arrivati in anticipo Per la grande riapertura Ho provato a metterli in guarda Ma mio padre e mio zio Li hanno coinvolti In questa folia Quelle persone Povere persone Sono ormai dei mostri Ampari della mia famiglia Sono parole Per descrivere Ciò che ho visto Ascoltiamo qua Che è anche Il salvataggio Va finito Finiscerò già Che ho sentito Come si è E anche Come si è Mora mi Perciò Perciò Come si è Come si è Qualcunque La verità La mamma Voglio che Conoscete Che ho Arrangedo Questi Fragments Per la canzone Di Di Composizione Per Quasi Compositori Il Il Lo Che Per 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 Il Thomas Con Sua E Il Il De Di 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 E io quindi ce le ho quattro Scemo, ce le ho tutti e quattro Questo è il quarto cilindro Il quattro cilindretto Siamo andati avanti Credo che abbiamo fatto un bel po' di cose Non pensavo Sono contento Niente Che stanchezza Un basone